Che cosa devi fare se lui non vuole investire su di te e quindi non ti vuole corteggiare? In questo video vediamo in analisi una situazione, un contesto dove una persona, un ragazzo, quindi non vuole investire, non vuole corteggiare l'altra persona e quindi qual è l'atteggiamento giusto da applicare e attuare in modo tale che poi si riesca a raggiungere il corteggiamento e quindi portare un uomo a investire davvero su di te e quindi a innamorarsi, a infatuarsi. Vediamolo insieme. Altra domanda, altro giro. Questa ragazza dice, ciao Federico, mi sento da un mese e mezzo con un ragazzo ma ci siamo visti solo quattro volte. Al secondo appuntamento siamo andati fuori e lo abbiamo fatto, cosa io sconsiglio, no? Ok, premetto che lui è molto impegnato col lavoro e lavora anche di notte e mi ha spiegato questa situazione e che a volte in passato la sua ex partner gli faceva pesare questa cosa. Ho aspettato quest'uomo e nonostante all'inizio pensavo fosse più un disinteresse da parte sua perché ogni volta, diciamo, si presentava stanco, gli ho proposto due volte di fare qualcos'altro ma ogni volta non si fa nulla nonostante all'inizio si mostri propenso, alla fine siamo rimasti da lui perché lui era stanco dal lavoro. Ovviamente ci saremmo dovuti vedere lo scorso fine settimana per stare insieme e mi ha dato di nuovo buca perché diceva che non riusciva perché aveva dei pensieri sull'ex e gli era passata la voglia di fare tutto in quel momento. Si è lasciato da poco, dopo una convivenza di molto tempo, anni, e in tutto questo mi dice ogni giorno, mi manda messaggi e mi dice che sta bene con me. Me l'ho detto più volte, però sembra confuso e incoerente. Cosa faccio per gestire questa situazione? Che cosa dovrei fare per capire se quest'uomo è davvero interessato a conoscermi o è solo interessato a quello? O semplicemente non si sente pronto per un rapporto? Gli devo dire qualcosa? Che devo fare? Allora, la soluzione è estremamente semplice. Se un uomo ti dice che non è pronto, è confuso, non sa che cosa fare, non sa come gestire la cosa, non sa come portarsi verso di te perché è stanco dovuto al lavoro e in più sai che quel ragazzo si è lasciato da molto tempo, questo è un campanello d'allarme, quindi è una red flag, il fatto sia che si sia lasciato da poco tempo, dopo una relazione lunga, e sia ovviamente che non è interessato a voler investire su di te nel lunghissimo termine. Questo significa che un uomo non è davvero interessato e ti vuole solo per quello. Il motivo per cui io suggerisco sempre di trattenersi dall'andarci a letto al primo, secondo, terzo, quarto appuntamento e aspettare il più lungo possibile è proprio per scongiurare queste situazioni o questi contesti. Nel momento in cui tu ci vai a letto, quello si lava le mani e dice ok, adesso mi sono fatto intanto l'amica di letto, poi se mi viene voglia, forse voglio pure fare una storia seria dove investo. Il problema è che l'unica cosa che devi fare con questo ragazzo è di ridurre le volte in cui li vedete, di organizzarsi per quando sarà riposato o quando avrai giorni di riposo e dirgli che in quei giorni poi magari potete fare qualcosa, stare insieme e vivervela meglio con più calma perché non ti piacciono le uscite fugaci e non è proprio il tuo stile. Ogni quanto puoi fare un'uscita fugace con un ragazzo, una volta ogni tre, una volta ogni quattro, ma non tutte le volte accettare di andare a casa sua e rilassarti se sei all'inizio della frequentazione. Se sei all'inizio della frequentazione è imperativo che tu fai capire al ragazzo che frequenti, che vuoi fare qualcosa che sia un'uscita fra di voi e se possibile durante il fine settimana quando sai che lui si può organizzare o quando sai che lui ha il turno di riposo. E se ti dice che non ha voglia e che non è proprio il suo stile, in realtà tradotto quello significa che quel ragazzo non è davvero interessato. Altra cosa importante devi ricordarti, non sei fidanzata finché non sei fidanzata. Quindi il tuo problema è che pensi di essere impegnata con un uomo che frequenti da un mese e mezzo, in realtà non lo sei. Tu non sei mai fidanzata con un uomo finché non sei fidanzata con lui o non ti chiede di essere fidanzata. Anche dopo quattro mesi, cinque mesi di tempo, se il vostro rapporto non è un rapporto esclusivo dove lui ti ha chiesto di stare insieme, ti ha chiesto una relazione stabile, voi non state insieme, quindi tu non devi pensare di essere single. Tu devi dare a questo ragazzo dei giorni o degli orari in cui vi frequentereste e cui potreste stare insieme, che devono essere orari dove lui è comodo, non orari dove tu gli vai incontro e gli la rendi comoda. Ok? Quindi devono essere degli orari e delle situazioni dove sai che potete stare insieme bene e che potete investire l'uno nei confronti dell'altro. Per far innamorare davvero un ragazzo, per capire se è davvero interessato, e lo ripeto qua di nuovo per la miliardesima volta, tanto il mio lavoro è questo, ripetere delle poche cose in modo abbastanza nitido e chiaro, è far sì che un uomo investa su di te che passi del tempo per stare con te e far sì che quest'uomo si innamori investendo sempre di più nei tuoi confronti e facendo sempre di più cose da coppia con te. Se un uomo non accetta di fare delle cose da coppia con te, significa che quel ragazzo non è interessato o sta abusando di idee. Il punto è che quando tu vai a letto con un uomo gli dai il coltello dalla parte del manico, ovvero, ok, lui ti categorizza per quello intanto e poi forse cambia idea e ti dice, ok, magari adesso posso sicuramente pensare di iniziare una relazione con lei o forse sai che c'è, non sento tutta questa voglia di investire su di lei perché tanto ci sono stato a letto, ho visto com'è e non mi piace. Ecco, quando un uomo arriva a quello è perché ci sei andata troppo presto a letto, non hai investito su di te, non avete fatto cose da coppia prima di andarci a letto e quello è l'errore principale. Quindi, suggerimento totale, se è possibile, prediligi delle uscite da coppia se il ragazzo con cui vuoi uscire è troppo impegnato, non ce la fa, è stanco, eccetera, la tua risposta sarà wow, mi dispiace molto per questo, sicuramente sarebbe meglio se magari riusciamo a organizzarci per dei giorni in cui siamo tranquilli entrambi e so che tu sei tranquillo e non sei stanco, così stiamo insieme e ci rilassiamo. Questo è il tuo obiettivo e se lui non accetta questo stile di uscite, la risposta è che lui non è davvero interessato a te.